salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono qui oggi per parlare di questo Farmi Simulet 2015 visto che è uscito il trailer ci ha dato un'occhiata dura un pochino ovviamente sono pochissime fanno vedere molto poco fa vedere le novità abbiamo visto ci sono il New Holland c'è la ponze che sono gli attrezzi da 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 bosco boschivi allora ancora tempo fa avevamo visto che erano uscite quattro screen che sono queste qui dove compariva questo t9 con la case del titanium le ponze appunto questo t8 sempre con il crampe e qui ci sono praticamente i mezzi diciamo penso di punta della di questo gioco vediamo c'è un t9 il t8 qua c'è il penso sia un t6 credo allora leggendo così guardando un po in giro quello che hanno scritto anche sulla pagina eccetera si legge che avrà una fisica nuova e lo spero anche bene anch'io che abbia qualcosa di nuovo quindi spero veramente più che altro a parte i mezzi in un rinnovamento effettivo del gioco sia di motore grafico che dettagli di fisica e tutto perché veramente sì Farmi è bello 2013 però manca secondo me manca di qualcosa perché un po diciamo piatto come come gioco qui sì ho voluto analizzare un po il trailer adesso io ho raggruppato delle screen devo fatto degli screenshot perché ovviamente non posso far vedere il video del loro perché sarebbe una sottospecie di violazione di copyright quindi ho trattato diciamo andremo a insaminare qualche screen allora come era immaginabile si dicevo prima hanno aggiunto gli attrezzi forestali perché fatalità quest'anno è uscita la mod e verrà integrata nel 2015 e fatalità quest'anno è uscito titanium e guardate qua cosa c'è la trebbia della case e verrà integrata nel 2015 quindi avremo diciamo un po di tutto raggruppato su un unico diciamo gioco senza avere dlc espansioni bla 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 eccetera niente era d'immaginarselo perché comunque avevano sempre fatto così su quasi tutti i farming su erano uscite le talpe ancora per le talpe intendo le grimme quelle per il 2013 e quindi diciamo sempre la solita la solita solfa allora andiamo a vedere le screen così intanto facciamo un esame allora va bene non guardate la qualità delle screen perché ovviamente avendo la fatta screenshot non viene in granché comunque vabbè qui vediamo che compare un t8 con con la new holland imballatrice ho notato anche sulle balle vedete che si vede tipo il pelo che esce le le pagliuzze che escono dalla balla qui vediamo anche su questa screen che c'è una reflection di luce qua ovviamente ragazzi io parlo sempre del trailer perché il trailer sempre il trailer quindi prendiamolo con le pinze io vi faccio vedere quel che ho visto che qui sopra vediamo che c'è sempre una new holland da tonda vedete questa che è una big pack qui c'è un altro screen comunque vedete se vederle così ferme del 3 è un po diverso comunque vedete che abbiamo sempre solito t8 qui abbiamo un altro t8 qui dietro c'è un potinger autocaricante vedete ci sono anche i lampeggianti si si vede ho notato anche molto il particle del fumo dicono dicono che ci saranno già ci saranno già le modi con il dirti integrato e lo spero molto vivamente perché è una roba non da poco sapete che a me il dirti conta molto qui dicevo prima ma vediamo questa la case che sono le axia flow quelle le nova 9000 non mi ricordo i numeri sono quelle la del titanium che verranno ovviamente integrate qui vediamo comparire questo t9 bella bestia noterete chi ha visto il video si noterà il il coso diciamo il particle del fumo e anche la il tappo a buco di ferro lì che ha animato notiamo anche il dirt che è ovviamente vedete le ruote sporche quindi quindi speriamo ho notato si nota anche sulle screen su questa qui dove eccola qua vedete che compaiono anche le tracce a terra non so se siano texture delle strade o veramente lasciano le impronte sarebbe veramente un'ottima un'ottima mossa ecco qui vedete più in dettaglio in questo in questo fotogramma dove si si anima diciamo il tappo a buco qui vediamo non ho fatto due test che due screen della pons e questa qui è la non mi ricordo se è la scorpio no la scorpion quella che taglia questa è la caricante quella carica tronchi che vediamo anche i tubi gialli come le pinze che sono uscite per la force mode questa qui è il braccio della della scorpion quella taglia tronchi qui vediamo il braccio in quest'altra si vede sia un pezzo qui abbiamo un pottinger autocaricante sempre con un new holland vedete come è marcato qui il dirt delle ruote che qua qui vedete che c'è il particle sempre del fumo che c'è il particle del calore e c'è già nel 2013 comunque qui siamo in campo vediamo comparire un ors questo qui è non sono non so se dovrebbe essere il tiger non mi ricordo più mi sembra di sì eccolo qua questa messo fermo qui vedete che ho visto questa cosa qui molto interessante che si vede il particle della terra vedete adesso ovviamente vederlo fermo un altro effetto comunque vediamo già una miglioria del per quanto riguarda il particle degli attrezzi dei movimenti terra speriamo facciano un bel lavoro comunque già un'ottima cosa già vedo una miglioria molto molto evidente vediamo dicevo le balle di prima che si vedono gli steli che escono dagli spaghi molto carino che vediamo sempre non si riesce a vedere ma penso sia un case piccolo credo non so se il x160 o l'MX non so che abbiamo sempre la pressa tonda che ora vediamo all'immagine alla fine dove si vede la new holland e la ponze allora il gioco uscirà il 30 ottobre di quest'anno per pc e i primi del 2015 per console non so se sarà modabile per console perché ovviamente giocarlo senza è un po una rottura qui abbiamo rifatto altre screen qui vediamo il muso della della scorpion ecco qua qui vediamo un altro frangente un altro particolare della terra molto carino eccolo qua un altro e basta altro sì non mi sono soffermato che vediamo anche la ruota del t9 sporca come abbiamo visto prima adesso non so se si sporcherà sarebbe bello che magari si sporcasse tipo se andate solo con una ruota sul fango su con l'altra si sporcassero proprio indipendentemente non come il 2015 13 che si sporca diciamo tutto 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 insieme quindi niente abbiamo sì ho questo questo abbiamo questo materiale a disposizione io ho deciso di fare così anche perché voglio sapere cosa cosa ne pensate voi più che altro io sono veramente veramente impaziente perché come dicevo sono veramente curiosi vedere cos'hanno cos'hanno combinato cosa le migliorie che ci sono e tutto e sono veramente veramente curioso e adesso vediamo nei prossimi mesi se escono si esce qualcosa qualche ci fanno vedere qualcos'altro vedremo spero che ci svegliano qualcosa di nuovo magari tutti i brand che ci saranno compresi in questo gioco per il momento contentiamoci di questo e niente io vi lascio spero vi sia piaciuto sì mi sia piaciuta la mia chiacchierata diciamo però che siate d'accordo con quello che con per come la penso e niente commentate ditemi cosa ne pensate se siete anche voi ansiosi se avete notato anch'io quello che ci si avete notato anche voi quello che ho notato anch'io e niente vi lascio vi lascio ai prossimi video vi ringrazio tutti quanti hanno raggiunto i 13 mila iscritti e per me è veramente un risultato ottimo sono veramente contento è tutto grazie a voi che mi sopportate niente grazie ancora a tutti ci sentiamo presto nei prossimi video ciao ciao